Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di queste cuffie wireless Bluetooth di BeExcellent disponibili su Amazon attualmente ad un costo di 28€ circa, anche se in alcuni giorni sono state in sconto a 20€ più o meno. Le cuffie in questione sono Bluetooth, quindi possono essere utilizzate con smartphone, tablet, PC e addirittura Smart TV se ovviamente avete la connettività Bluetooth. Poi in un altro video vi spiegherò come collegare alla Smart TV le cuffie Bluetooth o come collegare non solo le cuffie Bluetooth ma anche la soundbar nello stesso momento. Di questo vi parlerò più avanti. In questo video voglio concentrarmi su queste cuffie. Le cuffie sono economiche in termini di costo, cioè 28€ per un paio di cuffie Bluetooth non è tanto ma il costo relativamente basso del prodotto non corrisponde anche ad una qualità bassa. Sinceramente io era alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth da utilizzare durante gli streaming su Twitch per sentire il gioco ovviamente nelle cuffie, e dopo aver provato diverse cuffie wireless Bluetooth ho deciso di acquistare queste cuffie che non sono di marca, cioè non sono Sony, Philips, non lo so, Roccat, Corsair insomma non sono cuffie di una marca conosciuta. Eppure mi hanno soddisfatto. Ora, non aspettatevi cuffie con alti e bassi, eccellenti, ma comunque il volume di queste cuffie è davvero ottimo. E la cosa interessante è il fatto che se si aumenta il volume delle cuffie non ci sono rumori in sottofondo. Quindi, diciamo, sono davvero ottime. Sono comode da indossare? Allora, i driver sono composti da questo materiale gommoso, spugnoso, che si aderisce alla perfezione alle orecchie di coloro che le indossano. Sono davvero comode da indossare per diverse ore. La parte alta, invece, è formata da un cuscinetto che si adatta praticamente alla testa dell'utente, risultando leggere da indossare. Le cuffie, chiaramente, possono essere estese tramite questa placca in metallo, presente anche di qua, quindi non è una cosa plasticosa, e quindi si adattano a diverse dimensioni della testa. Le cuffie, ovviamente, possono essere regolate in volume direttamente da questo, diciamo, sistema di controllo presente sulla cuffia destra. Però ho notato una cosa che, per abbassare e alzare il volume, solitamente bisogna premere diverse volte. Invece, in questo caso, bisogna tenere premuto più o meno a seconda di come, diciamo, volete gestire il volume, se volete aumentarlo, diminuirlo e così via dicendo. Per accendere, la stessa cosa, non dovete premere una sola volta, ma dovete mantenere premuto per diversi secondi. La sincronizzazione Bluetooth avviene istantaneamente. Io le utilizzo con una Smart TV, attraverso, ovviamente, un dispositivo di cui vi parlerò più avanti, e la sincronizzazione è stata veramente rapida perché, ho tenuto premuto questo pulsante per pochi secondi, il LED blu è iniziato a lampeggiare e la sincronizzazione è avvenuta quasi istantaneamente. Quindi, davvero ottimo. Ovviamente, le cuffie sono disposte anche di jack, quindi potete collegarle anche via jack, nel caso in cui siano scariche per essere utilizzate via Bluetooth, o magari perché, per comodità, preferite il jack, e così via dicendo. Le cuffie vanno ricaricate tramite la porta USB, questa praticamente, la porta micro USB, che, cioè scusate, mini USB, che va collegato, ad esempio, ad un computer, ad una presa di corrente USB, quindi, insomma, potete ricaricarle anche alla TV stessa. Le cuffie sono particolari in termini di design perché presentano una parte in plastica, che è questa, e la parte superiore in lucido, vedete? Però è soggetta a graffi, perché, ovviamente, come tutte le cose lucide, sono soggette facilmente a graffi. Però nella confezione trovate, oltre, ovviamente, il cavo per la ricarica, il jack, trovate anche il sacchettino per portarle in giro, quindi potete tenerle al sicuro. Che dire, sono molto comode, non aspettatevi una qualità eccellente, ma sono soddisfacenti, abbastanza soddisfacenti, perché il volume è alto e non, diciamo, si contorce, non ci sono rumori particolari, si collegano subito, sono compatibili con smartphone, tablet, smart TV e quant'altro. Se siete interessati all'acquisto, potete trovarle su Amazon.